Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. Vediamo quali sono le principali notizie di oggi. È morto questa mattina in un incidente stradale il parroco di Arena Don Ignazzo Schinella. Ricordati i defunti in tutta Italia. Minacce sui social al procuratore Marisa Manzini e alla dottoressa Lia Saropoli. Giornata storica a Catanzaro arrivati rinforzi che il procuratore a Gratteri tanto chiedeva. Incidenti stradali conferiti nel comprensorio. Questo è altro tra poco. Sala strapiena aggagliato per l'Assemblea indetta dal Comitato Trasversale delle Serre. Presenti numerosi sindaci e amministratori locali, esponenti di partito di destra e sinistra. Presente pure il deputato del Movimento 5 Stelle Paolo Parentela. Commissariamento dell'ANAS è questa la proposta approvata all'unanimità dai presenti e che nei prossimi giorni diventerà una petizione popolare. Io appoggio l'iniziativa di questo comitato che dal basso da anni si sta battendo per avere appunto una infrastruttura importantissima che purtroppo, io ero piccolo e mi ricordo che quando percorrevo questa strada i miei genitori mi dicevano faranno questa strada, sarà tutto diverso. Non è cambiato niente. Io ho 34 anni, la strada ancora non c'è ed è uno scandalo di rilevo nazionale il fatto che venga Renzi oggi in Calabria a dire che i calabresi non devono essere di serie B quando lo stesso governo non ha mai risposto neanche alle nostre interrogazioni parlamentari che volevano fare chiarezza sull'utilizzo dei fondi di questa importante infrastruttura. E questo è davvero paradossale. Quindi noi appoggiamo pienamente l'iniziativa del comitato, vogliamo risposte dal governo che continua a tacere e vogliamo subito i responsabili dell'ANAS perché non è più tollerabile oltre al fatto che non sono stati pagati neanche gli stipendi a diversi operai che hanno fatto una parte dell'infrastruttura, oltre a questo l'ANAS ancora a distanza di quasi un anno dall'incontro che abbiamo avuto a Catanzaro non ha dato risposte alle esigenze che appunto chiedono i sindaci di questo territorio. Nei giorni scorsi c'è stata una riunione all'ANAS con pochi sindaci diciamo convocati dal sindaco di Sare San Bruno, siamo in campagna elettorale praticamente. Sì, è ora di smetterla, infatti io invito i calabresi un attimino ad aprire gli occhi perché queste passerelle che non servono a nulla, guidate da magari forze politiche che in tutti questi anni hanno solo promesso ma non hanno mai mantenuto bisogna un attimino rendersi conto di qual è la realtà di questo territorio. Questo territorio ha bisogno di dignità perché è stata calpestata più volte da questa classe politica che ha solo promesso e non ha mai mantenuto. Quindi è giusto che oggi il Comitato si riunisca, che porti avanti questa petizione che appunto chiede la responsabilità dell'ANAS e l'eventuale commissariamento perché qua è arrivato il momento di fare giustizia perché questo territorio si sta spopolando alla velocità della luce, un'infrastruttura di questo tipo doveva essere pronta già di dieci anni fa, siamo nel 2017 ancora, abbiamo solo pochissimi tratti di questa infrastruttura e nel frattempo il Paese sta morendo. Sì, infatti ho ringraziato il Comitato, il Presidente di avermi invitato e coinvolto in questa Assemblea per la prima volta appunto e questo perché è un momento delicato, un momento in cui il Comitato deve invece allargarsi, rafforzarsi perché è il momento di fare anche la voce grossa quando serve. Abbiamo visto un po' di polemiche ma è chiaro che non devono dividerci ma dobbiamo stare insieme, coinvolgere la provincia sicuramente perché per le strade alternative ma quello che io ho chiesto è quello di chiedere un incontro con i parlamentari calabresi e soprattutto quelli di governo e inchiodarli in un certo senso degli impegni chiari e precisi che sono quelli di completare quest'opera a quantomeno la Galliato a trasversare delle serre per poi pensare anche ad altri, altri completamenti e quindi sono loro, visto la partita nazionale, che giocano un ruolo importante a Roma. Lei è d'accordo su un commiseramento dell'ANAS? Ma io come gesto eclatante, come segno di protesta di questo territorio per la propria difesa sì, possa essere chiesto anche se è all'attuale responsabile di gestione finale che da pochi mesi non ci possono essere addebitate colpe del passato ma è chiaro che questo serve come un impegno forte per mandare un commissario per finalmente cercare di trovare le soluzioni che invece si rimanda di anno in anno e non si arriva a una soluzione. Cioè io credo che la difesa del territorio venga prima di ogni altra cosa anche se servono questi gesti eclatanti, benvengono. Qualcuno ha cercato di boicottare questo incontro, lei cosa ne pensa? Il Presidente ha parlato nel suo intervento di alcuni passaggi e se questo è vero è grave, è grave perché non deve essere boicottato nulla insomma in fondo questo comitato io ne ho apprezzato dall'inizio il taglio è moderato, cioè in un certo senso è stato d'ausilio, d'aiuto a tante soluzioni di problemi anche di operai che vantavano crediti dalle vecchie ditte che hanno fatti i lavori. Quindi perché boicottarlo? Se c'è questo disegno è grave bisogna difenderlo e anzi metterci tutti insieme e in modo monolitico blindarlo questo comitato da ipotetici boicottaggi. Sembra strano però molto probabilmente bisogna arrivare ad azioni eclatanti. purtroppo questo è quello che oggi ci hanno insegnato di fare è quello che la gente è stanca, non ce la fa a portare, a sopportare tutto quello che purtroppo si sta facendo per questo territorio un territorio abbandonato, un territorio che non è rappresentato assolutamente da parte di nessuno. Allora io dico ci vuole attenzione, un'attenzione che oggi qua in questo convegno si sta portando avanti nella consapevolezza che l'unione di tutti può dare un risultato serio e se quest'unione ci deve essere ci deve essere anche con azioni eclatanti. I sindaci che oggi qui parlano anche e soprattutto di unione dei comuni per dare veramente a questo nostro comprensorio un'area forte e potente da poter mettere paura altrimenti è sempre solo un territorio che è attenzionato durante le campagne elettorali solo perché c'è l'amico di turno che gli dà i voti e poi questo territorio viene abbandonato. Basta pensare che da Cadanzaro fino a Guardavalle, come diceva bene qualche rappresentante dentro in questo convegno, non siamo rappresentati da nessuno. Abbiamo un solo consigliere regionale che non può avere quella forza reale di difesa di questo nostro territorio. Ne sta a noi. Prima di tutto a noi sindaci e io già ho dovuto affrontare questa problematica con un'azione di protesta forte che ha dato i suoi primi risultati. Anche da qui oggi deve emergere che ci deve essere qualcosa di eclatante. Rifiutiamoci di avere gente che viene oggi qui da noi solo per approfittare di avere un voto per una campagna elettorale e dopodiché ci abbandona a noi stessi. Noi siamo abbandonati, siamo stanchi a non avere più risposte. Gli slogan che poi diventano degli slogan solo ed esclusivamente elettorali devono smettere. La gente del nostro comprensorio deve iniziare ad avere delle risposte e delle risposte certe. Chi avrebbe pensato di poter boicottare questo incontro vedendo le immagini rimarrà deluso? Sicuramente rimarrà deluso ma oltretutto non era il caso di promuovere quell'iniziativa a Catanzaro perché non aveva senso anche perché il risultato è stato uguale a quello del 6 febbraio. Cioè non dare nessun documento, dire solo delle cose. Come abbiamo ribadito i documenti servono per collaborare con i cittadini e portare avanti delle azioni anche in collaborazione con l'ANAS e con la politica. L'ANAS che è un ente pubblico che vive a spese dei cittadini, sulle spalle dei cittadini, viene mantenuta dai cittadini. Non sappiamo più in quale modo dirlo e proporlo. Ed è proprio per questo che abbiamo promosso questa petizione di firme. La indirizziamo al Ministro Padoan e al Ministro del Rio che sono gli organi deputati a disporre il commissariamento ANAS. Ma manderemo anche la lettera con tutte le firme ai procuratori della Repubblica di Catanzaro e di Vibo Valencia per valutare la situazione avendo loro già documenti in possesso riguardo questa trasversale delle serre. Ricordiamo che questo comitato non è partitico perché non fa parte di Forza Italia, di PD, di Movimento 5 Stelle. L'ho chiarito bene anche oggi. Il comitato non ha etichette politiche. Il comitato è nato con i cittadini e continua a fare gli interessi dei cittadini. E noi se veniamo appoggiati dai partiti politici di qualunque colore non ci tiriamo indietro perché è chiaro che c'è bisogno di determinate azioni che da soli non possiamo portare avanti. Ma sono i cittadini la nostra forza e su quello dobbiamo basarci. Il presidente della regione Mario Oliverio ha incontrato insieme al dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico e Politico Sociali Roberto Cosentino una delegazione di sindaci e di ex percettori di mobilità inderoga impegnati nei tirocini formativi politiche attive presso gli enti pubblici calabresi per fare il punto della situazione sullo stato d'avanzamento delle procedure amministrative finalizzate al pagamento delle indennità previste per lo svolgimento delle attività. Il presidente nel corso della riunione, secondo quanto rende noto un comunicato dell'ufficio stampa dell'Aggiunta, ha informato il tavolo di aver sollecitato sia il ministro del lavoro Poletti che la direzione nazionale dell'Inps. La soluzione del problema del pagamento delle indennità ai tirocinanti già percettori di mobilità inderoga di enti locali e imprese che in Calabria sono in servizio presso gli enti pubblici già da giugno scorso, considerato che è subordinato alla sottoscrizione della Convenzione. Il presidente Oliverio in particolare ha chiesto di conoscere lo stato delle procedure e la tempistica della sottoscrizione della Convenzione di livello nazionale con l'Inps, evidenziando la necessità per la Calabria che tale intesa venga conclusa nel più breve tempo possibile, affinché si possa attivare il flusso di pagamenti per migliaia di tirocinanti che attendono ormai da mesi le proprie aspettanze. A tale proposito, da parte dell'Inps è stata data informazione che entro la prima decada di novembre sarà definita la procedura per la sottoscrizione della Convenzione necessaria ai pagamenti. Pare che fino a qualche giorno fa ci fosse in ballo una candidatura unitaria, invece proprio nei giorni in cui Matteo Renzi attraversava la Calabria in treno questa ipotesi è saltata. Ovviamente le due cose non sono collegate, ma lo scenario che si sta delineando in queste ore attorno all'elezione del nuovo presidente di Anci Calabria ricorda molto le dinamiche interne ai partiti nostrani. Il presidente uscente dell'associazione che rappresenta i comuni italiani è il sindaco di Pizzo Gianluca Callipo, già candidato alle primarie per le regionali del 2014, esponente del PD e Renziano della prima ora. Callipo negli ultimi anni ha raccolto un certo sostegno tra gli amministratori locali calabresi. Tra chi fa attualmente il sindaco, tra il Pollino e lo Stretto, poi, pare che l'orientamento politico verso il centro-sinistra sia abbastanza diffuso. E nel congresso del Lanci, in programma per lunedì mattina alla mezzia, non è previsto il cosiddetto voto ponderato. Ogni preferenza espressa, insomma, vale un'unità e non pesa in proporzione al numero di abitanti del comune di provenienza. Insomma, per Callipo potrebbe facilmente arrivare una riconferma, tanto più che fino a qualche giorno fa, come detto, si parlava addirittura di candidatura unitaria. A rompere gli equilibri, invece, sarebbe ora arrivata una presa di posizione di alcuni big di Forza Italia calabrese, in particolare dell'area cosentina che fa riferimento ai fratelli Occhiuto e agliole Santelli. In virtù di un ipotetico accordo su scala nazionale tra PD e FI, che però da ambienti del PD non viene confermato, ai forzisti sarebbe dovuta andare la presidenza del Lanci calabrese e di quella libure. Per questo, alla luce di un patto interno ai berlusconiani nostrani a sfidare Callipo in quota FI, potrebbe essere il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, che è già stato presidente Anci dal 1998 al 2005 e che ora sarebbe in ballo per contendere il posto al collega di Pizzo. Il risponso per una carica rappresentativa che dovrebbe, in teoria, essere sottratta alle dinamiche partitiche. Arriverà dunque lunedì mattina, quando si riuniranno i 180 sindici. Hanno diritto di voto in 340, ma molti non sono in regola con i versamenti del Lanci e dunque sono esclusi, che dovranno scegliere quindi il loro rappresentante regionale. Sarà un giorno sicuramente importante, lunedì 30 ottobre, infatti alle ore 15.30, nella sala riunioni del Consorzio Ionio Catanzarese in via Veraldi 12 a Catanzaro, sono stati convocati gli stati generali per la diga di melito. Un grande e significativo appuntamento che già sta registrando l'adesione di tantissimi cittadini, sindaci, consiglieri regionali, parlamentari, organizzazioni agricole, sindacati, associazioni, categorie produttive, consorsi di bonifica, ordini professionali. Il presidente Grazioso Manno, tenace fautore della battaglia per il rifinanziamento e realizzazione di questa fondamentale infrastruttura, annuncia iniziative clamorose. In questi giorni anche testate nazionali, Rai 3 e Rai 1, hanno acceso i riflettori sulla diga di melito, ponendola all'attenzione nazionale sì come una incompiuta, ma anche come opera indispensabile ai fini rigui e potabili e allo sviluppo del territorio. È un momento decisivo, afferma Manno, e ci sono tutte le condizioni per inserire nella legge di bilancio che il Parlamento si accinge a discutere ed approvare il rifinanziamento della diga, all'interno della volontà anticipata anche da presidente del Consiglio Paolo Gentiloni di provvedere, come misura di contrasto alla siccità, un investimento pluriennale su medi, piccoli e grandi invasi, proposta peraltro portata avanti autorevolmente dall'Ambi nazionale. La diga di melito, con il nuovo progetto preliminare, rivendica Manno, si candida ad occupare un posto in prima fila, poiché è indiscutibile il suo alto valore strategico ed occupazionale. Dopotutto, ed era un aspetto di grande interesse, riferisce, per la realizzazione della diga si è sciolto anche il nodo relativo al contenzioso con la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, che ha accolto i rilievi del Consorzio. Per la diga continua vi è il confermato impegno per la realizzazione da parte del presidente Mario Oliverio, nonché del ministro alle infrastrutture Graziano del Rio, che in diverse occasioni hanno espresso il loro consenso a tutto quello che il Consorzio aveva e ha continuato a fare. Gli stati generali che abbiamo convocato, conclude Manno, devono rafforzare tutti questi elementi positivi con una carica di straordinaria autorevolezza, compattezza e solidità per il raggiungimento di un obiettivo comune che può fare solo il bene della Calabria. Sono di queste ore le prese di posizione alla 5 Stelle del Sindaco che si dimostra offeso e infastidito di non essere stato invitato nella maniera corretta a partecipare al tavolo di confronto sullo stato di avanzamento della realizzazione della trasversale delle senre. Questa volta nel mirino del Sindaco Donato, il Sindaco di Serra San Bruno, che a suo dire in maniera solitaria, non ha ritenuto opportuno condividere questa sua iniziativa con tutti gli altri comuni del comprensorio. A prescindere dal fatto che dalla partecipazione al tavolo non sembrerebbe proprio così solitario, Luigi Tassone, circondato da quanto emerge dalle foto e dalla stampa, da tanti colleghi sindaci di paesi interessati dall'opera. Quello che emerge però è l'assenza proprio della delegazione chiaravallese. Il Sindaco infatti sembrerebbe più preoccupato a fare audience che a ricordarsi di essere rappresentante delle istituzioni e non semplice cittadino. Ma questa è un'altra storia rispetto al tentativo maldestro e malriuscito di fingere avversione verso la politica e verso chi su quest'opera ha cercato e prova ancora a dare il proprio contributo, seguendo le vie proprie di uno Stato democratico. Proprio lui, figlio della politica e dei partiti, ora si scopre malato di grillismo estremo. Proprio lui che ha fatto parte di quel cionzio sinistra che oggi tanto critica, proprio lui che dovrebbe rappresentare i cittadini e amministrare un territorio, si scopre allergico alle regole politiche. E' così uniformato alle posizioni di un comitato che pur svolgendo il proprio ruolo in maniera egregia, altra cosa è rispetto a chi amministra e fa politica e deve sedersi ai tavoli istituzionali con il ruolo di responsabilità che gli elettori gli hanno attribuito. E anche questa è un'altra storia. Se spostiamo la lente di nuovo sulle elezioni di partecipazione e democrazia di un sindaco che ignora completamente le istanze legittime di un quinto dei consiglieri di minoranza di convocazione del Consiglio Comunale sulla Casa della Salute e su tanti altri temi di interesse collettivo. Non prendiamo lezioni da chi forse, nella speranza di rubare la primogenitura di alcune opere importanti non attribuibili di certo alle sue gesta, si dimentica di coinvolgere le rappresentanze politiche, sociali e i cittadini tutti. Vorrebbe forse con la trasversale delle serre riprovare il maldestro colpaccio di far credere che è tutto merito suo? Davvero Donato crede che basti qualche articolo di giornale appositamente studiato e un bombardamento mediatico con servizi pronti e impacchettati all'uso per ingannare nuovamente i cittadini? Le bugie hanno le gambe corte. Sembra più che il tentativo disperato sia quello di distogliere l'attenzione dal fallimento amministrativo e politico sulla gestione della nostra città. Dalla viabilità alle scuole, sia in termini strutturali che di servizi, si pensi al servizio mensa che ad oggi ancora risulta non attivo, con le serie difficoltà a cui vanno incontro famiglie e i loro piccoli. All'abbandono del territorio, intere aree degradate e sporche, ad un centro storico sempre più buio e abbandonato, alla totale assenza delle istituzioni locali sulla questione degli immigrati. Insomma, all'assenza totale di programmazione per la ripresa economica e sociale della nostra città, Vestendosi del grillino di turno cerca di distogliere l'attenzione sui problemi seri che i cittadini chiaravallesi incontrano giorno per giorno. Impegnati in sperperi di ogni genere, non ci si preoccupa delle classi sociali più deboli e che hanno veramente bisogno. Non ci sono soldi per gli aiuti sociali da una parte, ma ci sono soldi per incarichi e incaricucci assegnati senza alcun criterio dall'altra. Mimmo Donato su trasversale e casa della salute, il circolo del PD ha fallito. A confermare quanto fosse strumentale e fazioso l'incontro sulla trasversale delle sede del 25 ottobre scorso, promosso dal sindaco di Serra San Bruno presso la sede Anas di Catanzaro, ecco arrivare puntualissimo il soccorso rosso della segretaria PD di Chiaravalle Centrale. A scriverlo è il sindaco di Chiaravalle Centrale Mimmo Donato, in replica ad una precedente nota a firma di Emanuela Neri. La segretaria PD, scrive il sindaco, che ricordiamolo sempre per i non addetti ai lavori, si è formata politicamente passando con invidiabile disinvoltura dal centro-destra al centro-sinistra senza battere ciglio, dall'alto della sua coerenza si veste da maestrina e spiega, urbi e torbi, quanto sarebbe brava lei ad amministrare la cosa pubblica al posto degli altri. Peccato che la democrazia, e quindi il voto del popolo, le abbia consegnato un ruolo di minoranza, una sconfitta che evidentemente ancora brucia. Brucia tanto, prosegue Donato, da farle perdere lucidità. Parla dei grandi risultati ottenuti dal PD per la trasversale delle serre, ma forse si riferisce a qualche opera omonima su un altro continente. È verità inconfutabile che sul nostro territorio la trasversale non esiste, mancano i soldi per completarla e niente di positivo si vede all'orizzonte. Stesso scivolone per la Casa della Salute, banalmente trasformata dalla segretaria renziana, ex berlusconiana, vensusconiana, in una barzelletta di poco conto. Eppure lì si ragiona di servizi essenziali per i cittadini, di salute, di assistenza. Resta sempre un mistero l'atteggiamento ostruzionistico della Neri proprio contro il progetto della Casa della Salute, mentre il suo partito a tutti i livelli lo porta avanti con una nota di merito. Vivrà forse un momento di confusione, comprensibilissimo visto lo stato attuale di crisi del suo partito a Chiara Valle Centrale. Sappia la Neri, conclude il sindaco Donato, che noi governiamo nell'interesse di tutti, della comunità intera, e non per difendere i compagnucci di partito. E' uno dei motivi per cui lei ha perso le elezioni e noi abbiamo vinto. Oltre 20.000 domande per 20 posti da infermieri per l'ospedale dell'Annunziata, di cui la metà, cioè 10 infermieri, esclusivamente interni e quindi già al lavoro parzialmente. Numeri assolutamente ridotti, troppo pochi per risolvere definitivamente il problema che da tempo solleviamo, assicura Fausto Sposato, presidente dell'IPASVI di Cosenza, il collegio degli infermieri appunto. Il rappresentante di quasi 4.000 iscritti cittadini scende in campo per difendere tutta la categoria e soprattutto per accendere i riflettori su una situazione che non è accettabile. Sposato spiega che se da una parte siamo felici per un concorso che si attendeva da tempo e che forse anche grazie al nostro pressing costante è stato riconosciuto e finalmente formalizzato, dall'altra ci attendevamo e attendiamo più spazi, più possibilità, più posti. Il nostro ospedale ha bisogno di infermieri e di colleghi che lì lavorano hanno bisogno di rifiatare dopo turni massacranti, ferie saltate e straordinarie non stop. Il presidente Sposato invita non a caso allora tutti i colleghi ad alzare la voce verso le istituzioni sanitarie e a far capire, laddove ancora non sia chiaro, che al pari dei medici e di chi opera tutti i giorni, gli infermieri sono l'anima dei presidi ospedalieri, pubblici e privati. La nostra categoria, afferma il presidente, deve essere tutelata. Sarebbe morto per soffocamento Donato Denis Bergamini, il calciatore trovato cadavere nel 1989 sotto un camion sulla statale 106 Ionica all'altezza di Roseto Capospulico. Dopo 28 anni l'esito della superperizia medico-legale disposta dal GIP del Tribunale di Castrovillari sul cadavere del calciatore del Cosenza, contribuirebbe a dare nuovo impulso ad una vicenda ancora non chiarita. La salma di Denis Bergamini, la cui morte, avvenuta il 19 novembre del 1989, venne attribuita al gesto volontario di togliersi la vita. È stata riassumata lo scorso luglio dopo la riapertura dell'inchiesta da parte del procuratore della Repubblica di Castrovillari, Eugenio Facciolla. La città piange il piccolo Mattia Guerrieri e si stringe attorno alla famiglia proprio per la prematura scomparsa del giovane atleta lamettino, amato da tutti. Il piccolo Mattia si allenava con la Lucky Friends, associazione nata nel 2012 per dare l'opportunità di riscoprire le proprie attitudini allo sport ai bambini con difficoltà fisica o psichica. E Mattia, strappato alla vita troppo presto, rappresentava l'esempio di buona volontà, coraggio e amore per la vita, nonostante le difficoltà. Tanti messaggi di cordoglio arrivati alla sua famiglia oggi, in ricordo di un bambino che ha lasciato il segno nel cuore di molte persone. Un messaggio speciale giunto dal sindaco della città Paolo Mascaro e anche dalle squadre di calcio sport che Mattia amava e che in questa domenica di partite ha voluto ricordarlo. I tifosi del San Biasse lo hanno infatti salutato con uno striscione. Riposa in pace Mattia, piccolo grande campione, mentre l'ASD Vigor Lamezia, 1919, tramite il suo capitano, ha deposto un fascio di fiori nel posto in tribuna che usava abitualmente occupare il piccolo Mattia. La famiglia ha deciso di donare gli organi. Sistema dell'emergenza urgenza nelle preserre all'anno zero. Stavolta dentro il riordino dei servizi sanitari è entrato pure il coordinamento del SUEM 118 che non ha integrato al meglio l'intervento dell'elisoccorso con quello del personale a terra. Proveniente da Catanzaro, ieri mattina, poco prima di mezzogiorno, sul manto erboso del campo sportivo Foresta è atterrato il velivolo del 118 con il personale medico a bordo. Nessuna ambulanza ad attenderlo, né tantomeno una squadra specializzata a terra per impartire le istruzioni che in questo caso sarebbero necessarie. Sono stati proprio gli operatori dell'elisoccorso in tuta rossa, accompagnati con una macchina privata da un operatore della struttura, a recarsi alla casa di cura per anziani Ebenezer di Contrada Pirivoglia, posta a un tiro di schioppo dal Foresta. Motori dell'elisoccorso fermi per oltre mezz'ora, il tempo necessario per l'intervento degli stessi medici che dopo aver constatato il decesso dell'anziano hanno potuto fare ritorno alla base. Emergenza dentro l'emergenza dunque, perché dalla postazione del SUEM 118 non è partita alcuna ambulanza in quanto è impegnata sul territorio in altra attività. Punto di primo intervento dell'azienda sanitaria provinciale che continua a segnare la mancanza di un'adeguata organizzazione soprattutto in periferia, compresa la dotazione di un automezzo attrezzato per i soccorsi. Nulla da eccepire per la squadra degli operatori in volo e dei piroti che si sono resi disponibili a prestare le cure del caso. Resta il fatto che qualcosa non ha funzionato alla meglio nel coordinamento dei soccorsi. Un problema che è stato evidenziato in diverse circostanze, quello della mancanza di un'ambulanza che possa interagire adeguatamente con i medici del SUEM 118, perché può accadere che per una semplice unghia incarnita sia costretta a spostarsi l'ambulanza della Casa della Salute di Chiaravalle Centrale fino all'ospedale di Soverato, o, come è accaduto qualche giorno fa, sia costretta a intervenire fino a Badolato per un incidente stradale, perché l'unica ambulanza disponibile tra le postazioni di Isca e Soverato Montepaone. Nel frattempo, un infartuato di Torre di Ruggero non è nelle condizioni di poter essere adeguatamente assistito, perché il parco automezzi resta deficitario. Ancora una volta il capogruppo consigliare del PD, Emanuela Neri, sproloquia, omettendo intenzionalmente fatti, atti e verità delle cose di cui parla. Ad affermarlo in una nota è l'assessore comunale al bilancio lavori pubblici e programmazione Claudio Foti, in replica ad un precedente comunicato dell'esponente Renziana. Purtroppo, prosegue, Laneri ci ha abituati da tempo a queste sue uscite carnevalesche, nelle quali si autoesalta per la sua presunta sapienza politica. L'ha fatto nel 2015 contro l'amministrazione Tino e oggi si ripete contro l'amministrazione Donato. Ne prendiamo atto e andiamo avanti come se nulla fosse accaduto. Attacca Foti, Laneri stravolge intenzionalmente la realtà dei fatti quando parla della famosa riunione sulla trasversale delle serre, palesemente convocata per i soli sindaci piddini, di fede censoriana, presso la sede Anas di Catanzaro. Un incontro aperto solo a quattro gatti che però, nella fantasia della Neri, sembra diventare una donata oceanica. Ma infatti, la verità dei fatti dice tutt'altro e pertanto nessuno le crede. Pur rispettando il suo ruolo di consigliere di opposizione, sottolinea l'assessore, dovrebbe quantomeno avere la compiacenza, la serietà, l'onesta morale e intellettuale quando si affrontano determinati temi particolarmente importanti, di acquisire le giuste informazioni, cosa purtroppo che non le appartiene, poiché preferisce la strategia vecchio stampo degli attacchi sterili e privi di qualsivoglia fondamento, senza nessun supporto oggettivo. La segretaria del PD parla di territorio abbandonato, dalle strade agli edifici scolastici, alla pubblica illuminazione, continua la nota di replica, eppure dimentica con disinvoltura e incoerenza, per non dire con tendenziosità, che questa maggioranza guidata dal sindaco Donato ha ereditato questo stato dell'arte che lei apostrofa come territorio abbandonato. Lo ha ereditato proprio da chi oggi siede al suo fianco in Consiglio Comunale, da chi la coinvolge nel portare avanti azioni e iniziative del tutto risibili e sterili, sottoscrivendo documenti inconcludenti e privi di qualsiasi base concreta, in fatto e in diritto. Di certo non ci faremo intimorire dalle affermazioni maldestre della Neri, anzi al contrario le bypassiamo e andiamo avanti, seguendo la bussola del nostro programma elettorale, e quello l'impegno presso con la comunità chiaravallese. Non saranno certamente gli strafalcioni linguistici della Neri a far demordere questa maggioranza che, con tenacia e caparbietà, sta lacrimente lavorando per rimettere sulla giusta carreggiata un paese che ormai aveva perso tutto, affondando nel degrado più assoluto lasciato dai suoi attuali vicini di banco. Sono comunque pronto, conclude la nota dell'assessore Foti, ad affrontare un pubblico confronto con la segretaria del PD locale, Emanuela Neri, per discutere serenamente sui temi, da lei toccati, dalla sanità alla viabilità, per poi passare all'edilizia scolastica e per finire con i servizi. Attendo fiducioso. È un impegno lungo 25 anni, quello dell'osservatorio Falcone Borsellino Scopelliti di Soverato, presieduto da Carlo Mellea, che mira a diffondere la cultura della legalità, soprattutto tra le giovani generazioni. Un traguardo che meritava di essere celebrato attraverso un libro, curato da Mellea e Giulia Veltri, che raccoglie esperienze e testimonianze di chi è impegnato quotidianamente in prima linea per contrastare il fenomeno mafioso, magistrati, giornalisti, avvocati. La presentazione ha avuto luogo sabato 28 ottobre a Vibo Valencia, presso la prestigiosa sede del sistema bibliotecario, e ai giovani che si rivolge direttamente questo lavoro, ed è a loro che si vuole mandare un chiaro messaggio di incoraggiamento. Siete voi il nostro futuro, ha detto il presidente dell'osservatorio, e dovete puntare sulla cultura e sulla conoscenza. Solo così si potrà eliminare il fenomeno mafioso. Proprio per questo motivo l'intervento introduttivo è stato curato da una giovane studentessa del liceo classico Morelli di Vibo Valencia, Anna Franco. Tra i relatori anche il magistrato Giancarlo Bianchi, la direttrice della casa circondariale di Catanzaro, Angela Paravati, il consigliere regionale Mario Magno. Mellea ha portato la legalità tra i ragazzi quando ancora questo tema non veniva affrontato tra i banchi di scuola, hanno ricordato i presenti. Bisogna essere uomini di cultura per sconfiggere la mafia. Il presidente dell'osservatorio, Carlo Mellea, ricordando nel suo intervento le numerose attività nelle scuole in questi 25 anni, ha anche auspicato che possa presto diventare un giovane il presidente di questa associazione, rimarcando l'importanza di stare tra i ragazzi a parlare di legalità, evidenziando i tanti esempi positivi che abbiamo e ricordando chi ha sempre lottato per la legalità. L'evento, realizzato da Icrea Banca Impresa, SPA, in collaborazione con Assilea, Banca di Credito Cooperativo di Montepaone e Banca di Credito Cooperativo del Catanzarese, rientra tra le iniziative formative e informative che la Banca di Credito Cooperativo da tempo ha avviato per lo sviluppo del territorio e la crescita professionale di tutti i suoi attori. Il saluto dei presidenti delle due Banche di Credito Cooperative, l'avvocato Giovanni Caridi per la Banca di Credito Cooperativo di Montepaone e il dottor Flavio Talarico per quella del Catanzarese, ha dato avvio ai lavori che hanno registrato la presenza di numerosi professionisti e imprenditori. Il dottor Carmine Daniele, responsabile area affari della Banca di Credito Cooperativo Centro-Sud di Icrea, Banca Impresa SPA, ha illustrato ai presenti la realtà di Icrea Banca, ponendo l'accento sui servizi innovativi che la stessa può offrire ai clienti delle banche di credito cooperativo. Ha inoltre accennato al progetto di riforma delle banche di credito cooperativo che vedrà nascere una nuova realtà bancaria, la quarta in Italia, capace di affrontare con rinnovato slancio e maggiore forza le nuove sfide del settore. L'intervento del dottor Francesco Barone, commercialista e editorialista di tematiche economiche e fiscali per diverse testate giornalistiche, si è incentrato sul leasing e sulla normativa che lo disciplina, con particolare riguardo ad alcuni aspetti contabili e fiscali. Il dottor Marco Viola, responsabile fiscale dell'Associazione Italiana Leasing, ha incentrato il suo intervento su superammortamento, iperammortamento, Sabatini-Terra e Industria 4.0 e sulle opportunità fiscali che le stesse offrono, con una frizzante esposizione che ha catturato l'attenzione dei presenti sui temi trattati che hanno partecipato alla discussione con diversi interventi. Al termine il presidente Giovanni Caridi ha ringraziato i presenti per la loro partecipazione, con un arrivederci al prossimo appuntamento formativo. Sindaco, bentornata alla Sagra della Castagna a Davoli Centro Storico, un grande successo. Quest'anno è ritornata a Davoli Superiore, come era giusto che fosse, ma io devo dire da subito che la Proloco è stata subito disponibile perché è stata una decisione loro in autonomia quella di riportare la Sagra qui a Davoli. Anzi quest'anno devo dire che l'hanno organizzata anche sotto l'aspetto non solo della serata goliardica, gastronomica, ma anche dal punto di vista culturale, perché stamattina c'è stato un convegno proprio su in montagna, tra i castagneti, dove si è ripreso il discorso del cinipida che ha infestato negli anni passati i nostri territori, i nostri boschi. E lì si è capito, hanno spiegato in questo convegno che l'allarme ancora non è cessato, bisogna stare attenti, bisogna prestare attenzione a come si brucia nella montagna. Di fatti noi come amministrazione, io come sindaco, in settimana farò un'ordinanza proprio a questo proposito per vietare che nei castagneti si arrivi a bruciare le serpaglie perché questo fa sì che l'insetto che noi abbiamo lanciato all'epoca per contrastare il cinipide possa essere bruciato e quindi non avere quell'effetto di salvaguardia che tutti ci siamo promessi all'epoca di avere per salvaguardare la nostra montagna. Quindi una festa che ritorna a Davoli con il benvenuto dei davolesi. Noi come amministrazione siamo vicini alla Proloquio, io li devo ringraziare, devo ringraziare il Presidente Alcaro, devo ringraziare i ragazzi che collaborano con lui perché noi vediamo stasera la serata tanta gente, però organizzare questo non è una cosa semplice, non è facile, c'è tutto un lavoro dietro di mesi dove questi ragazzi a livello di volontariato si impegnano per arrivare poi a queste serate con tanta gente che degusta i prodotti della lavorazione della castagna, tanti dolci, tanti prodotti tipici qui della zona del nostro territorio. Questo è un fatto importante, è un fatto che lega come deve essere, che lega il territorio di Davoli Marina al territorio di Davoli Superiore, questa è l'armonia che ci deve essere, se vogliamo tutti assieme crescere per lo sviluppo dei territori. Già la nostra Calabria è un territorio di per sé impoverito, che culturalmente si sta impoverendo sempre di più. Se a questo aggiungiamo le nostre divisioni, le nostre evasioni, noi veramente faremo il male non solo da lei ma di tutti i paesi, di tutto il nostro territorio. Allora io dico che l'Unione fa la forza, in questo caso fa la forza perché riesce ad organizzare serate veramente belle, veramente importanti, veramente che fanno poi riscoprire alla gente che partecipa, che viene da fuori, da altri paesi, il nostro paese, il nostro borgo, che come voi sapete è un borgo molto molto interessante. E quindi noi come amministrazione, io come sindaco non posso che essere contento di questo e ringraziare di nuovo la Proloco per la manifestazione che ha organizzato. Proloco, bentornati a Davoli, come mai quest'anno questa scelta? Beh, a dir il vero non abbiamo mai lasciato Davoli. Ci siamo sospostati lo scorso anno da un posto a un altro, quindi da quella che era la sede a cui le persone erano abituate di Davoli Centro, a Davoli e giù in Marina. Abbiamo fatto questa scelta lo scorso anno per questioni di forze fisiche che ci sono venute meno. È una sagra e molto impegnativa perché oltre ai tempi che ci vogliono per preparare le cose che vengono esposte, i dolciumi che prepariamo noi direttamente, si tratta appunto di spostare un interimpianto dalla nostra sede che è in Marina a Davoli su e servono oltre che braccia anche dei mezzi di transport che lo scorso anno sono venuti meno. Quindi è soltanto questa è stata la motivazione per cui noi siamo rimasti in piazza di fronte alla nostra sede. Non abbiamo scelto altri posti tanto per fare dispetti o perché abbiamo deciso di fare qualcosa che non è così fuori dal comune. È soltanto questo. La giornata è iniziata stamattina con un convegno. Qual era il tema e come si è svolto questo convegno? Questo convegno continua il discorso che abbiamo iniziato nel 2010. Nel 2010 abbiamo segnalato il rischio e il pericolo del cinipede, che è questo insetto che è stato introdotto con le talee delle cultivar euro giapponesi, che hanno introdotto appunto questo cinipede. Qui dove nei nostri boschi non aveva un antagonista, quindi si è trovato ad avere questo bosco a disposizione, questo ben di Dio a disposizione, quindi chiaramente si sono insediati distruggendo quella che era la vegetazione del castagno. Già l'anno scorso, nonostante le difficoltà che ha dovuto affrontare il castagneto, c'è stata una buona, non ai livelli precedenti, ma c'è stata una buona produzione di castagne. Cosa invece quest'anno è venuta meno per le condizioni anche climatiche e atmosferiche. Non ha piovuto, c'è stata siccità, un forte caldo, per cui la vegetazione che c'è stata all'inizio di primavera poi non è seguita questa vegetazione la fruttificazione vera e propria. Per cui lì ci sono rimasti vuoti e hanno prodotto soltanto nelle zone alte dove la neve che è stata abbondante quest'anno ha permesso appunto di una risorsa idrica e ha consentito la fruttificazione dei castagneti. La serata è palesemente ben riuscita, il borgo è pieno di persone, sono tutti quanti sorridenti. Ci possiamo dare appuntamento l'anno prossimo? Sicuramente ci avremo un appuntamento il prossimo anno e vediamo anche di arricchire ancora sempre di più la manifestazione con nuove proposte. L'elenco delle richieste da parte del Presidente del Consorzio di Bonifica, Ionio Catanzarese, streno a difesa di ciò che consideriamo diritti. Guardi, lo sciopero della fame, lo sciopero della sede non è un ricazzo. Voglio chiedere il riconoscimento dei nostri diritti. Io chiedo il rifinanziamento del capitolo che riguarda la rete di colo per tutti gli operai stagionali dei Consorzi di Bonifica calabresi, ma come Presidente del Consorzio Ionio Catanzarese chiedo finalmente il rifinanziamento della dica del merito. Ci è stata promessa, abbiamo fatto il progetto, abbiamo avuto la sentenza della Cassazione a noi favorevoli, non ci sono più ostacoli. Io non mi muoverò da qui fino a quando il Presidente Oliverio e il Ministro del Rio verranno qui da noi con grande umiltà, così come con grande umiltà io sto chiedendo quello che sto chiedendo. Guardi, le responsabilità sono tante, ma oggi non vale la pena parlare delle responsabilità. Quello che conta oggi è iniziare nuovamente questa opera, perché è l'unica opera in Calabria che può dare sviluppo e occupazione. Guardi, io pensavo di non arrivarci, ma se è questo quello che loro vogliono, io lo faccio volentieri. Ho detto anche che non prenderò più le medicine che prendo abitualmente da sei anni e mezzo dopo l'operazione al cuore. È un ricatto, ripeto, no, è la richiesta forte del riconoscimento di nostri diritti, non nostri in quanto manno o in quanto amministratori del Consorzio. Diritti dei consorziati, diritti del mondo agricolo, diritti della comunità, diritti della Calabria, diritti di coloro che sono disoccupati e che potrebbero lavorare per sei anni su quest'opera e poi per tanti anni per la gestione dell'opera. Quindi io mi sto battendo per i diritti di coloro che vogliono lavorare per realizzare un'opera straordinariamente importante per tutta la Calabria centrale. Alba per Satriano, in seguito alle molte richieste da parte dei cittadini, riguardo alla tariffa per la depurazione riscontrata all'interno della bolletta per il servizio idrico integrato, si è attivata rivolgendosi alla di Consum per avere delucidazioni in merito. La di Consum, analizzata la situazione in data 26.10.2017, ha inviato una nota al commissario prefettizio e agli uffici comunali chiedendo che dalla fattura si stornino gli importi di depurazione. Nell'attesa di una esaustiva risposta da parte del Comune è utile illustrare la situazione dei cittadini. Innanzitutto la questione riguarda solamente i cittadini residenti nel centro storico, in quanto la zona marina è effettivamente provvista di collettore fognario da molti anni e paga giustamente tale tariffazione. Mentre il centro storico ha un collettore dal 2015, entrato però in funzione solamente nell'estate del 2017, come spiegano anche gli uffici comunali. A far sì che i costi gravassero sulle tasche dei cittadini anche per il 2016, nonostante la chiara essenza del servizio in questione, è stata una delibera di giunta del 20 aprile 2016, approvate dai signori Michele Drosi, Alessandro Catadano e Teodoro Basile, nella quale viene stabilito che la quota è dovuta anche in mancanza del relativo servizio. A tal proposito è bene sottolineare che l'intero importo del finanziamento per la costruzione del collettorio fognario è stato coperto dalla Regione Calabria, salvo poi accorgersi delle solite sviste e irregolarità nelle modalità di affidamento dei lavori da parte dei nostri uffici comunali, errori che hanno costretto la Regione a ridurre il finanziamento del 25%, costi che, a parere del Comune, devono essere pagati come sempre dai cittadini di Satriano. In attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda, sulla quale Alba per Satriano vi terrà costantemente informati, con l'occasione si avvisano tutti gli interessati che il gruppo Alba è unito più che mai e che andrà avanti mantenendo costanti i principi e gli obiettivi prefissati, guidato sempre dalla figura di Aldo Battaglia, candidato a sindaco. Tecnicamente non si tratta di una riconferma, ma nella sostanza ci si avvicina molto, le elezioni di Gianluca Callipo alla guida di Anci Calabria. Il sindaco di Pizzo è stato votato dal 70% degli eventi diritto, durante l'assemblea congressuale che si è ritenuta lunedì mattina alla mezzia terme. Callipo è stato eletto presidente regionale dell'associazione, che rappresenta i comuni italiani con un voto unanime dei presenti, unanimità anche per il nuovo consiglio direttivo composto da 30 membri. Esponenti del PD di Federenziana, il sindaco di Pizzo ha già alle spalle un mandato alla guida del Lanci Giovani, ed era stato indicato nel luglio scorso dal presidente nazionale Antonio De Caro, quale rappresentante protempore dell'associazione regionale, con il mandato di arrivare nel più breve tempo possibile al rinnovo degli organi statutari. L'elezione di Callipo è stata preceduta da qualche polemica con alcuni big calabresi di Forza Italia, come il sindaco di Cosenza Mario Chiuto e l'omologo di Catanzaro Sergio Abramo, entrambi assenti alla votazione, che avevano ritenuto illegittima la convocazione dell'Assemblea e avevano invitato il collega di Pizzo a rinviare il congresso degli amministratori locali. La proposta di rinvio era stata messa ai voti nell'Assemblea congressuale, ma è stata rigettata quasi all'unanimità, fatta eccezione per un solo amministratore. Sento il carico della responsabilità che mi è stata affidata da un numero così importante di sindaci calabresi, ha commentato Callipo, che hanno chiaramente espresso la volontà di ridare al lanci regionale gli organismi previsti dallo Statuto. Questo rafforza la nostra associazione e farà sì che la voce dei comuni calabresi possa arrivare in maniera forte ai livelli istituzionali sovracomunali, a partire dalla Regione. Lavorerò per garantire il massimo coinvolgimento di tutti. Il movimento democratico e progressista si prepara alla campagna elettorale. Presso la sala giunta della provincia di Catanzaro si è tenuta la conferenza stampa di articolo 1 MDP Catanzaro con il capogruppo alla Camera Francesco Laforgia. La legge elettorale è un gran pasticcio, non garantirà né la rappresentanza né la governabilità. Per due terzi i candidati saranno nominati da 4-5 segretari di partito e per il restante terzo voi troverete nei collegi uninominali delle alleanze farlocche perché i partiti si uniranno in assenza di una leadership condivisa, in assenza di un programma comune. E poi abbiamo denunciato quello che forse per me è lo strappo più grave di questa legislatura, il fatto che su una legge naturalmente parlamentare come una legge elettorale si sia posta la questione di fiducia, peraltro la seconda volta nella stessa legislatura. Questo sarà un precedente molto molto grave che noi abbiamo appunto denunciato e di cui il Partito Democratico si è assunta tutta la responsabilità. Sulle affermazioni del sindaco in risposta al documento politico di importante contenuto trasmesso dal PD non ci soffermiamo proprio, volendo tenere alto il livello del dibattito politico. Reputiamo infatti che un sindaco eletto avrebbe dovuto dare risposte improntate sul merito delle questioni poste dai consiglieri di minoranza, rappresentanti del popolo e non utilizzare sfottò che sembrano usciti dal bar sport. Giusto un appunto riguardante le ultime elezioni comunali. Dati alla mano, i risultati ottenuti dal Partito Democratico e quelli ottenuti dal consigliere Neri parlano chiaro. Forse più che essere il gruppo PD a non aver accettato la sconfitta, sembrerebbe essere la maggioranza a non mandare giù di non poter governare in modo dittatoriale perché non eletta attraverso un plebiscito. Per tale motivo, le regole democratiche impongono il confronto con la maggioranza delle cittadini che non li ha votati. Se dopo un anno e mezzo di gestione donato, la situazione di Chiaravalle Centrale è ancora quella lasciata dalle passate amministrazioni, come dichiarato dall'assessore Foti, la maggioranza dovrebbe farsi qualche domanda e arrivare alla conclusione che gestire la cosa pubblica è altra cosa rispetto a ciò che oggi si sta facendo. Quando arriveremo a discutere della responsabilità nel bene e nel male dell'attuale amministrazione? Tra un decennio, noi del PD potremmo proporre al Governo di allungare il mandato elettorale del Comune di Chiaravalle Centrale a 20 anni, se è questo il tempo che serve a Foti per cambiare qualche lampadina nel centro storico, tappare qualche buca e incidere sulla cosa pubblica. Per quanto riguarda il confronto pubblico, accettiamo volentieri la sfida lanciataci. Non possiamo che ritenerci soddisfatti. Finalmente Foti si trova sulla stessa lunghezza d'onda del gruppo PD e non solo, di tutta la minoranza. Finalmente, dopo un anno e mezzo di continue richieste di confronto pubblico, la maggioranza è pronta. Accettiamo la sfida lanciata dall'assessore Foti e ci permettiamo di scegliere come location il luogo pubblico per eccellenza, il Consiglio Comunale. Luogo aperto a tutti e deputato al confronto democratico. A maggior ragione, alla luce della determina numero 87 del 20-10-2017 e il relativo impegno di spesa che affida all'emettente televisiva Teleionio, il servizio di comunicazione istituzionale del Comune e la ripresa integrale con trasmissione dei consigli comunali. Presentato a Chiaravalle Centrale, presso la Sala Convegni di Palazzo Stagliano, il terzo romanzo pubblicato dal dottore Natale Sacca, Volevo ancora giocare ma poi. Già noto per la sua professione di medico, Sacca ha iniziato a cimentarsi anche con la letteratura, raccogliendo ottimi consensi di critica e pubblico. A Chiaravalle il suo libro è stato introdotto e commentato dall'assessore comunale alla cultura Pinarizzo, dalla professoressa Anna Veraldi e dal giornalista e presidente della consulta comunale della cultura Francesco Pungitore, mentre alcuni passi sono stati letti in forma recitata dalla professoressa Paola San Giuliano. Molto apprezzato l'intermezzo musicale, con un'applaudita performance di violino e pianoforte. Nel corso degli interventi sono emersi i grandi pregi del romanzo, che innanzitutto esprime la grande abilità dell'autore nell'indagare la complessità della psiche umana. Ogni suo personaggio ha un universo da scoprire. In secondo luogo, Sacca lascia trapelare il suo amore per la città di Catanzaro, raccontata in tutta la sua bellezza, con il suo mare, la sua pineta, il corso, i proverbi e i modi di dire del folk popolare. Tutto ruota intorno alla vita di un quarantenne giornalaio, affetto da quella che sua moglie Stefania definisce la sindrome di Mario. Non è la sindrome di Peter Pan e qualcos'altro, non è il desiderio di chi vuole restare bambino. Quella di Mario è la voglia di crescere fino ad un'età giovanile e poi dire basta. Per questo motivo va a giocare a pallone con i ragazzini e sogna di rivivere il suo amore con Anna, sue compagne ai tempi del liceo. Mario dunque voleva ancora giocare, ma poi ha dovuto fare i conti con la vita. Sì certo, il protagonista principale secondo me è la città di Catanzaro, quella che ho voluto descrivere in questo libro, ma anche in molti aspetti nei miei romanzi precedenti. E sì, c'è la storia di una persona che va avanti con l'età, però non vuole accettare di invecchiare, vuole sempre essere giovane, come è un tratto che ho visto in comune a molte persone. Io per prima, ma molti altri della mia età ho anche vicini, che continuano, volerebbero ancora giocare, non vorrebbero accettare di essere anziani o vecchi. C'è anche quell'aspetto legato al gatto che parla, non parla, insomma il grillo parlante della situazione. E quello è un artificio letterario, se vuole possiamo dire così, serve un po' per attirare l'attenzione, ma anche per attirare l'attenzione dei lettori sugli animali, sul gatto che in particolare questo l'ho dedicato alle mie figlie che hanno un loro gatto e che lo amano alla follia, insomma, e quindi ho dovuto un omaggio a loro. Parlando di Catanzaro, lei dimostra di amarla tantissimo, anche attraverso le pagine di questo libro, è una città che fa da sfondo appunto a queste pagine. Sì, è una città molto bella, almeno io la sto riscoprendo anche adesso, perché per scrivere i miei libri vado proprio nei vicoli a vedere, a riscoprire, a sentire i sapori antichi, gli odori antichi, eccetera, eccetera. Perché noi siamo abituati ad andare sul famoso corso, ma non addentrarci nei vicoli come fanno in tutti gli altri borghi, nell'altra città. Devo dire che ha dei posti molto belli, trascurati. Quindi, io dico che c'è una città fiera, no? Fiera però una nobile donna che sembra un po' decaduta, però fiera. C'è una sua fierezza in Catanzaro. Lui è direttore, o è stato fino a poco tempo fa direttore facente funzioni della struttura organizzativa complessa di gastroenterologia del pugliese Ciaccio. ha pubblicato altri due libri. Trovo che sia stata veramente questa qui una chicca, perché un medico che dedica adesso il suo tempo per la scrittura la trova veramente una cosa adorabile. Anche perché è un libro di grande riflessione, di riflessione su come invecchiare, invecchiare bene, ma invecchiare bene sapendo cosa fare. Cosa fare e come fare. E continua la scia, come lei diceva, degli scrittori calabresi, soprattutto catanzaresi. Il dottor Saccà ha proposto, si è autoproposto. È stato quasi un caso, diciamo, che io abbia conosciuto dei suoi amici e che si sia proposto per la presentazione del libro a Chiaravalle. Noi chiaramente siamo molto felici quando qualcuno sceglie di presentare dei libri qui da noi. Speriamo stasera che il tutto si svolga come sempre, ecco, con grande accoglienza. Lo sfondo del libro è senz'altro cadanzare con le sue vie storiche dovute alle antiche dominazioni e anche ai panorami straordinari come l'asile e il mare. Il tema del libro si basa su una condizione umana, che è quella di sentirsi giovani anche se adulti, ma la trama si orienta su un errore, diciamo, dovuto a questa condizione, che poi si risolverà nella maniera più positiva. Comunque rivela la condizione, diciamo, dei Peter Pan che ci sono nella nostra società, è una condizione comune perché per tanti motivi si ha la paura di invecchiare, la paura di morire o perché si ha un vissuto molto triste, per diversi motivi. Comunque la trama è molto avvincente, con un po' di suspense e quindi è un libro che va a letto, sicuramente straordinario. Il Signore sia con voi e con il suo spirito. Vi benedichi a Dio nipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amén. E' l'acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio, alleluia, e a quanti giungerà quest'acqua e si diranno alleluia, alleluia. Vennuti, Signore, di visitare, custodire, confortare e proteggere tutti quelli che verranno in questo momento. Per Cristo nostro Signore. Amén. A auguri. Siate coraggiosi e controcorrente, un'esortazione rivolta ai giovani, quella di Papa Francesco, che ha ispirato l'imprenditrice chiaravallese Tiziana Cosentino. Prendendo alla lettera quell'invito del Santo Padre, ha inaugurato il suo negozio di abbigliamento controcorrente, per l'appunto. Si trova su Corso Gregorio Stagliano a Chiaravalle Centrale. La festa d'apertura è stata celebrata in grande stile, con la benedizione del parroco Donenzo Iezzi, e il taglio del nastro alla presenza del Sindaco Mimmo Donato, che accompagnato dall'amministrazione comunale al completo, ha sottolineato l'importante del tessuto economico commerciale cittadino, come traino per la ripresa occupazionale e come prospettiva per i giovani. Un buffet con dolci, torte e spumante, che hanno salutato i tanti amici che hanno voluto condividere con Tiziana questo momento di felicità. Controcorrente propone capi di abbigliamento uomo-donna casual e sportivi, tra le marche selezionate Saracole, Rischio, Boy London, H2O. Buongiorno a Chiaravalle Centrale. Buongiorno a Chiaravalle Centrale. Serata musicale con la splendida voce di Bainuccia, presso il ristorante Paninoteca Pizzeria La Foresta da Morris a Chiaravalle in via del Santuario. In tanti hanno degustato le specialità preparate dallo chef, non solo pizza ma anche un menù a base di baccalà. Troppo cara la felicità, la mia ingegnità, continuo ad aspettarti. Pancake, gustosi, semplici e nutrienti, tornano i venerdì culturali di Naturium, accompagnati dalle ricette della brava Lucia. Presso l'Urban Market in Montepaone è stata illustrata la ricetta originale dei Pancake. Ispirazione originale americana che prevede una base da preparare con nuova, latte e farina a cui aggiungere zucchero, olio e lievito in polvere. Siamo a Larda di Montepaone con la moglie di Giannis Gros. Un percorso lunghissimo che sta portando Giannis Gros e la famiglia, in questo caso la moglie Roberta, a fare conoscere ai suoi clienti quanto di buono e naturale. Oggi in modo particolare assisteremo alla preparazione del Pancake. Grazie e benvenuti alla sede di Naturium presso Urban Market in Montepaone. Questa sera si parla di Pancake nel progetto Naturium. Il Pancake è una preparazione molto colosa che è apprezzata non solo dai bambini ma anche dai grandi. Quindi abbiamo in linea con quella che è la ricerca appunto di Naturium del biologico e del sano di coniugare le esigenze dei golosi anche con un'attenzione particolare alla salute. Quindi è possibile realizzare dei Pancake anche con dei prodotti sani e proteici. Il problema dei bambini che lei ha toccato che stanno forse troppo davanti alla televisione e al computer e poi magari mangiano delle merandine preconfezionate. Invece questo ricordiamo che è un alimento sano. Sì è un alimento sano e poi vorrei mettere in evidenza anche bello far partecipare i ragazzi alla preparazione di un dolce fatto in casa. Le preparazioni fatte in casa sono state rivalutate perché consentono anche di trascorrere dei pomeriggi insieme ai genitori e quindi assistere anche alla preparazione di come viene fatto un cibo buono. Questo penso sia una cosa anche molto importante. Vediamo anche che ci sono dei prodotti legati alla natura tipo la vera integrale, la soia. Sì oggi ci sono dei prodotti che sono veramente validi perché apportano delle proteine che sono importanti e quindi è possibile anche venire incontro alle esigenze di chi ha delle intolleranze verso delle normali farine. Per questo il pancake può variare nella preparazione ed essere veramente accessibile a tutti. Vediamo anche la tempistica, la signorina Lucia sta preparando in pochissimo tempo. Sì è un dolce che richiede una frittella che richiede pochissimo tempo di preparazione e poi può essere anche guarnito con creme diverse. Dedicato veramente ai bambini, Lucia, questo qua invece di prendere le merendine preconfezionate e fare stare i bambini davanti alla televisione o al computer, le mamme con pochi attimi e pochi ingredienti riescono a fare il pancake che è un elemento quanto mai salutare. È molto facile da preparare, infatti viene utilizzata anche come colazione ed è molto versatile sia come dolce che salato. Viene fatto con delle uova, farina, dello zucchero se si vuole mettere oppure del miele e del latte. Semplici ingredienti che abbiamo tutti in casa, 5-10 minuti di cottura e abbiamo ottenuto una buona colazione. Di sopra possiamo metterci della marmellata, della frutta di stagione e anche della cioccolata se proprio vogliamo farli un pochino più golosi. E abbiamo una buona colazione sana e una merenda per tutti i giorni. Ho visto che si può fare anche un'alternativa dolce e salato comunque. Sì, viene utilizzato magari dello yogurt greco e viene fatta una preparazione salata da metterci dell'affettato vegetale o normale oppure delle creme spalmabili salate e viene anche utilizzato come cena o pranzo oppure anche per chi vuole fare una colazione salata e non aumentare con le dosi del dolce. Allora, facciamo un invito alle mamme a cominciare finalmente da oggi a fare una colazione salutare o una merenda salutare per i bambini. Sì, perché è molto importante dare ai nostri bambini, nipoti, dei prodotti sani, non le solite classiche merendine che possiamo trovare ovunque. Questo c'è un pochissimo apporto calorico comunque. Sì, 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 ma poi si può fare anche proteico, quindi diamo un buon prodotto. Attenzione a non confondere però il pancake con un alimento solo per i bambini. Al contrario, è un alimento così salutare e così proteico che anche i ragazzi che vanno in palestra e qua, ne abbiamo tre, le hanno adottato e adeguato al loro stile di vita e alla loro nutrizione quotidiana. È vero Bruno? Sì, certamente. Noi siamo una versione dei pancake abbastanza proteica con due semplici ingredienti che sono l'albume d'uovo e la farina d'avena. Questo qua per esempio è integrale. Bastare anche semplicemente in uno shaker oppure in una ciotola e sbatterle con una frusta e versarle in un padellino antiaderente. Cuocerli tre o quattro minuti per lato e saranno subito pronti. È una colazione abbastanza facile e nutriente, in grado di dare principalmente proteine e la giusta quota di carboidrati. Infatti Bruno, ricordiamo che non è solo la parte atletica importante per un ragazzo che fa palestra, ma quanto mai sintomatico l'alimentazione. Sì, infatti anche dal punto di vista energetico è una buona soluzione per noi sportivi principalmente. La trasversale sia l'occasione per ripensare radicalmente l'amministrazione del nostro territorio, lo ha detto il sindaco di Cenadi. Lo ha affermato il sindaco di Cenadi, Alessandro Teti, partecipando alle iniziative del Comitato Trasversale delle Serre, 50 anni di sviluppo negato. La vera sfida che si profila all'orizzonte, ha affermato il primo cittadino, è quella di fondere insieme tutti i nostri piccoli paesi per far nascere un unico, grande Comune delle Preserre Catanzaresi. Lo stanno facendo in tanti in provincia di Cosenza. È arrivato il momento di ragionare in quest'ottica anche dalle nostre parti. Secondo Teti, che già in passato aveva affrontato l'argomento pensando ad una conurbazione tra Cenadi, San Vito sullo Ionio, Livadi e Centrache, il vero ostacolo che c'è in questo territorio è rappresentato da chi preferisce i pennacchi ad essere l'anonimo sindaco di un piccolo comune, piuttosto che un autorevole consigliere di una realtà amministrativa capace di far sentire con forza la propria voce e il proprio peso negli equilibri regionali. Un'argomentazione che si ricollega alle esigenze infrastrutturali poste in discussione in seno all'Assemblea del Comitato Trasversale delle Serre. Dopo 50 anni di riunioni e promesse ancora mancano infatti le risorse economiche per completare interi tratti della superstrada Ionio-Tirreno. Una cruda realtà, soldi, creerebbero più facilmente se a chiederli fosse il sindaco di una grande città. Espressioni unitari di decine di migliaia di cittadini e l'argomentazione di Alessandro Teti adesso avvalata anche da altri amministratori locali del comprensorio. Il sindaco di Chiaravalle Centrale, Mimmo Donato, condividendo una proposta analoga arrivata dallo storico Ulderico Nisicò, ha ipotizzato l'avvio di un tavolo preliminare di concertazione sul tema delle fusioni tra comuni, aperto a tutte le questioni dello sviluppo della vasta area interna che va da Gagliato a Cardinale. L'addio di Bova al PD. Questo partito non mi rappresenta più. In una nota il consigliere regionale parla anche di gestione scellerata e autoritaria. Il consigliere regionale Bova ha diffuso una nota per precisare le ragioni del suo addio al PD. La politica è prima di tutto passione, scrive formazione, idee, confronto e sintesi. Elementi essenziali per costruire una comunità, in particolar modo se si parla di vivere all'interno in un partito politico. Il PD ad oggi ha smarrito tutti questi elementi, perdendo di vista quei principi fondativi che solo dieci anni fa avevano spinto le forze di centrosinistra a trovare una sintesi, rinunciando a pezzi di sovranità politica per arginare e sconfiggere la deriva populistica e demagogica di destra. Oggi purtroppo possiamo sostenere con fermezza e convinzione che questa gestione del Partito Democratico, autoritaria e scellerata, non ha fatto che affievolire lo spirito e il senso di appartenenza di tanti militanti e tanti dirigenti che hanno creduto fortemente in quell'idea fondante. Progressisse e riformisse, annichilendo e travolgendo chiunque abbia usato soltanto suonare un campanello di allarme, mentre nelle piazze vuote si assisteva già allo spettacolo desolante della dismissione della nostra nobile tradizione politica. Perdiamo regioni, città, pezzi interi di territorio senza che nessuna analisi critica e alcuna strategia venga messa in atto. E non è certo come in soliti slogan o viaggi in treno che si può ricucire lo strappo con un elettorato che vive sulla propria pelle il dramma di una crisi economica senza fine e che è ormai ridotto allo stremo anche quel ceto che fino a dieci anni fa poteva dirsi medio borghese. La mezza e il centro-sinistra annuncia assenza domani in Consiglio Comunale. Dimettiamoci tutti. La proposta di scioglimento del Consiglio Comunale arrivata al Ministro dell'Interno ha letteralmente scombussolato gli equilibri del Consiglio Comunale cittadino, la cui prima seduta dopo la notizia di conclusione dei lavori di commissione è convocata proprio per domani alle 9 nella Sala Napolitano. La prima reazione del centro-sinistra è stata quella delle dimissioni di Mariolina Tropea da Vicepresidente del Consiglio. In coerenza con le posizioni assunte nei giorni scorsi, noi consiglieri del centro-sinistra affermano in una nota i consiglieri Mastroianni, Zaffina, Tropea, Villelle e Piccioni non parteciperemo ai lavori del Consiglio Comunale previsti per domani 3 novembre. Avevamo chiesto al Sindaco e alla maggioranza un segnale di irresponsabilità e di rispetto dell'istituzione, viste le decisioni imminenti che spetteranno il Consiglio dei Ministri su un eventuale scioglimento del Consiglio Comunale. Nessuno vuole che il Comune si fermi. Fin quando non vi saranno le decisioni del Governo, l'amministrazione ha il dovere di proseguire l'attività ordinaria e di dare risposte ai cittadini sulle esigenze più impellenti. Ma su questioni complesse di rimenti per il futuro della città, come quelle che sono all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, è dovere fermarsi e attendere le determinazioni del Ministro degli Interni e del Consiglio dei Ministri. Noi consiglieri del centro-sinistra siamo pronti a rassegnare le dimissioni anche domani mattina, se ci saranno almeno altri otto consiglieri disponibili a fare altrettanto. Se ci dimettessimo solo noi cinque, subentrerebbero altri cinque consiglieri e quindi non cambierebbe nulla. Siamo consapevoli, ed è giusto che i cittadini lo sappiano, che il Consiglio dei Ministri potrebbe deliberare in ogni caso lo scioglimento, anche in caso di fine anticipate della Consigliatura. Ma in caso di dimissioni di almeno la metà più uno, l'eventuale notifica dello scioglimento non arriverebbe a noi consiglieri, rappresentanti dei cittadini, ma ad un commissario prefettizio. Con questo atto, di fronte all'onta del terzo scioglimento, vogliamo difendere la dignità e l'onore della nostra città, concludendo infine che siamo convinti sia a cuore a tutti i consiglieri comunali. Ci appelliamo perciò a tutti i colleghi consiglieri in nome di un sussulto di orgoglio per la città. Per il bene di Lamezzi, in questo momento, dobbiamo compiere atti di responsabilità e dimostrare con i fatti il nostro amore per la città. 16 sindaci in allerta sul nuovo ambito territoriale del Consorzio di metanizzazione. Vediamo il servizio. Ai 16 sindaci che fanno parte del Consorzio di metanizzazione delle preserre, non sta bene la convenzione proposta dal Presidente dell'ATEM di Catanzaro Crotone, Sergio Abramo, relativa alla costruzione dell'ambito territoriale per la gestione associata del servizio di distribuzione del gas naturale. Secondo alcune indiscrezioni, l'organismo, sorto nel 1993, è stato completamente bypassato con gravi pregiudizi per i lavoratori in forza e per le reti possedute dalla struttura di via Spasari. A rivolgersi al sindaco della città, capoluogo Sergio Abramo, attraverso il sindaco, Domenico Donato, sono stati i colleghi dei comuni di Argusso, Cardinale, Capistrano, Accentrache, Gagliato, Livadi, Palermiti, Petrizi, San Vito sullo Ione e Torre di Ruggero per la sponda del Catanzarese. Per la provincia di Vibbo, invece, sono i sindaci di Monte Rosso, Polia, San Nicola da Crisse e Vallelonga, tutti i rappresentanti dell'Assemblea del Consorzio che hanno chiesto una riunione urgente con il Presidente del nuovo ambito che interessa i territori di Catanzaro e Crotone per discutere sul destino del Consorzio di via Spasari e, soprattutto, sul destino delle due unità lavorative. Al netto della polemica in atto tra il Presidente attuale del Consorzio delle Preserre, Giuseppe Pitre e alcuni sindaci come Domenico Donato di Chiaravalle Centrale, Mario Barbieri di Torre Ruggero, Fernando Sinopoli di Centra, che è la Convenzione, non tiene conto che Chiaravalle Centrale, così come il resto delle amministrazioni locali, fanno parte di un organismo sovracomunale, mentre Catanzaro ha ignorato il Consorzio. Proprio domani mattina, nella sede del Consorzio di via Spasari, si terrà un'assemblea convocata dal Presidente Giuseppe Pitaro, che per gli amministratori della sede municipale di via Castello arriva tardiva. Le preoccupazioni maggiori sono poste sul fatto che, una volta in pieno l'ATEM Catanzaro-Crotone, tutta l'imparcatura delle Preserre va a cadere. Chiaravalle Centrale ha consegnato le condutture al Consorzio per realizzazioni di questi reti. I vari comuni si sono sobbarcati il peso di un mutuo con la Cassa dei Depositi e Prestiti, assistito dal contributo statale del Ministero per lo Sviluppo Economico. Per il Sindaco Domenico Donato, ma anche per il resto dei 15 sindaci firmatari, è impensabile che, prima della sottoscrizione della nuova Convenzione, non si sente il bisogno di aprire un confronto su quella che per lunghi anni è stata una positiva realtà. E adesso ritorniamo a parlare della Sagra della Cassagna con questo servizio su Davoli. Nell'ambito della ventitresima edizione della Sagra della Castagna, organizzata dalla Proloco di Davoli e del Presidente Luciano Alcaro, in località Cucruta, si è tenuto un interessante convegno dal tema salute del castagneto e paralizzazione del territorio. In serata, la tradizionale sagra con tanto divertimento. Allora, in questo momento i castagneti calabresi non sono proprio in ottima salute, però sono convalescenti, oserei dire, perché piano piano si stanno riprendendo da questo grosso problema che è iniziato da una decina d'anni, che si tratta praticamente dell'attacco del cinipide galligione del castagno, che è stata l'ultima goccia, in qualche modo potrei dire, che ha fatto traboccare il vaso, in quanto comunque un certo abbandono dei castagneti era già presente da un bel po' di tempo, quindi in qualche modo i castagneti non più curati, non più coltivati come si feceva un tempo, sono facilmente diventati preda di questo temibile parasita che è arrivato dalla Cina e che, come dicevo, ha dato il colpo di grazia, però noi siamo impegnati da almeno sette anni a contrastare questo fitofago con l'unico metodo che ad oggi risulta essere quello vincente ed è il controllo biologico, quindi dal 2012 nei castagneti si sta diffondendo, viene distribuito l'insetto utile, il Torimus sinensis, che contrasta il cinipide galligione del castagno. Piano piano quest'insetto sta cominciando a far vedere i suoi risultati, però noi dobbiamo dare una mano a questo insetto perché per raggiungere l'equilibrio che noi aspichiamo di raggiungere nei castagneti nel più breve tempo possibile e per avere di nuovo il ritorno della produzione dei castagneti bisogna seguire delle buone pratiche culturali. Innanzitutto evitare di bruciare le foglie che cadono nel periodo autunnale perché in quelle foglie, nelle galle che si trovano presenti su quelle foglie possono trovarsi gli insetti utili che noi dobbiamo assolutamente preservare, dobbiamo consentire a questi insetti di sfarfallare tranquillamente nel periodo di fine aprile, inizio maggio quando sui nuovi castagni si troveranno le galle. Inoltre bisogna evitare pure di bruciare i rami di risulta della potatura, le frasche, le ramaglie dove si trovano le galle secche che possono sembrare prive di vita mentre invece all'interno di queste galle secche sempre si trova l'insetto buono che sta completando il suo ciclo di sviluppo. Quindi avere queste accortezze per cercare di dare una mano all'insetto utile a svolgere il suo compito, a fare questa azione di controllo del cinipide in modo tale che questo equilibrio porti ad un numero tale di cinipidi che non crea più problemi di produzione e di buona salute per la pianta. E questa sera dopo il punto di Ulderico Nisticò uno speciale sull'evento. E domenica si replica in piazza Nicolas Green di Davoli Marina a partire dalle ore 17 in poi con la degustazione di prodotti tipici locali a base di castagne e tanto divertimento. L'appuntamento è per le ore 17 in piazza Nicolas Green a Davoli Marina. E questa era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione e buona serata. L'appuntamento è per l'attenzione e buona serata.